Qual è il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di competenza per la redazione del PEI provvisorio? La risposta è dipende. Da che cosa? Lo vediamo subito! Ben ritrovati e benvenuti al format PEI-ICF, la risposta alle tue domande. Se apprezzi i contenuti e i video del canale Diversi Tutti, allora non perdere l'occasione di condividerli ed iscriverti al canale e attivare la campanella se non vuoi perdere i prossimi video. Analizziamo insieme in questo video quale sia la composizione per quanto riguarda la componente docente del GLO che si deve occupare della stesura del PEI provvisorio. Per quelle bambine e quei bambini neo iscritti, cioè che accedano per la prima volta al mondo della scuola, quindi iscritti nella scuola dell'infanzia o al limite nella scuola primaria per la prima volta, chiaramente non avranno assegnata ancora una classe nel momento in cui si debba provvedere alla stesura del PEI provvisorio. Quindi in questi casi sarà cura del dirigente scolastico nominare per quanto riguarda la componente docente quei docenti che andranno a far parte del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione addetto proprio alla stesura di questa bozza, quindi di questo PEI provvisorio. In tutti gli altri casi, quindi nel caso di alunni già iscritti, sarà proprio il team docente o il consiglio di classe della classe frequentata dall'alunno che per la prima volta si vede riconosciuta la condizione di disabilità e certificata ai sensi della legge 104. Con un'attenzione particolare nel caso in cui la certificazione di disabilità fosse presentata dai genitori non solo nell'ultimo anno di un determinato segmento scolastico, ma dopo il 31 marzo. Quindi la componente docente è sempre composta dal team o dal consiglio di classe della classe, quindi diciamo del quinto anno delle superiori o del terzo anno della scuola media o della quinto anno della scuola primaria o del terzo anno della scuola dell'infanzia, ma si avrà un'attenzione particolare, cioè si avrà cura di invitare a questa riunione, quindi a questo gruppo di lavoro, anche un rappresentante della scuola di destinazione, cioè dove lo studente o l'alunno o il bambino andrà a frequentare l'anno successivo. Questo per garantire l'adeguata continuità. Prima di procedere volevo ricordarti che hai la possibilità di accedere all'area riservata agli iscritti di diversi tutti e dedicata proprio al PEI-CF. Per farlo basta iscriversi al link che trovi in descrizione. Per questo video è tutto, non rimane che capire quale sarà il modello da utilizzare per la stesura del PEI provvisorio e lo vediamo insieme naturalmente nel prossimo video. Un caro saluto a tutti e alla prossima!